benvenuti o bentornati sul canale sono eri garzia e vi presento come avete visto da short il coltello di luciano lustro eccolo qua che mi ha regalato stefano di natale veramente veramente un bel pezzo un coltello rustico grezzo del coltellinaio vista toscano che io non conosco però mi piace molto i coltelli grezzi rustici anche un po tirati un po via così però magari funzionale questo lo vedremo in un secondo momento quando inizierò il test o fodero ragazzi tutto fatto a mano davvero davvero molto bello poi tinto da lui guardate bello eccolo qua una bella fettuccia per un bel passante di cintura viene dato con un paracord con un cordino con doppio foro in fondo per il cosciale e l'apertura basta estrarre il coltello e abbiamo l'estrazione la cosa forte che mi piace di questo fodero che ha adottato luciano è che di solito quando si vede questi foderi qua senza laccettini senza nulla di solito il coltello casca invece lui guardate non casca stranamente non casca quindi bravo bell' accorgimento ovviamente non è che va portato così è però ecco questo accorgimento che a me piace andiamo a vedere il coltello e la sua scheda tecnica con tanto di tagliandino di luciano di garanzia e dice infatti recita si certifiche che il coltello realizzato è un pezzo unico lavorato artigianalmente ok potete vedere qua eccolo qua ci sono tutte le misure modello e bushcraft un coltello da bushcraft l'acciaio è una 8 mod 57,5 hrc lunghezza del tagliante sono 16,8 la lunghezza totale sono 29,8 cm spessore della lama del dorso sono 5,4 mm la manicatura è un micarta mora guardate bella con tre viti torx e poi ci sono anche degli spaziatori arancio all'interno e foto vabbè abbiamo detto cuoio è pesa 477 grammi vi metto una foto perché qua non è riportato ma l'ho pesato io insomma 477 grammi di coltello punta standard sul piatto sinistro c'è il logo di luciano qui c'è una martellatura tipo brut de forge insomma fatta da lui esteticamente bella a me piace ok o rustico grezzo ci sono un po delle imperfezioni ma va bene un po sul jimping qualcuno è schiacciato qualcuno messo un po storto lo faccio vedere ma come lui mi ha detto anche dammi consigli fammi vedere dimmi tutto io ti faccio vedere quello che vedo ma insomma va bene ragazzi coltellinaio hobby sta ok va bene qua ci sono un po vedete non sono proprio precise però ragazzi è un bel coltello a me piace sta bene in mano io le mani grandi guardate come mi abbraccia la mia mano sul codolo adottato un simpatico e davvero bello paracord intrecciato con il ora vanno di moda questi teschettini qua ne sa qualcosa anche thai e quindi niente o come potete vedere anche sulla lama ci sono un po qualche sgraffietto qualcosa io non l'ho ancora usato però a me va bene piace piace molto poi la 8 mod è anche un bel bel acciaio arriva così c'è da dici nulla e io inizierei anche il test vediamo come fa due ricciolini bello sto tagliante qui mi piace ragazzi guardate qua spettacolo veramente uno spettacolo iniziamo un attimino con qualche ciocco e questi le mangia facciamo un po qualcosa di più grossi andate qua ora andate a prendere il nodo io non posso affaccio il nodo a chi ok ha spaccato tutto filo perfetto allora vediamo un po mezzo mezzo leccio come va cambio martello cambiato anche posizione perché ero troppo alto vibrazioni tante questo è tosto a questo ragazzi tostissimo è in mezzo eh guardate è in mezzo leccio cambiato ancora eh ho preso un altro sciocco perché come base se no macello qui si va a picchiare sulla manicatura eh yes Luca sta spaccando eh piano piano dai dai ce l'abbiamo fatta buona era tosto questo via mezzo eh mezzo leccio di velli grossi comunque lui ragazzi ha tenuto alla grande ha tenuto alla grande vabbè vibrazioni si diciamo al limite ma al limite eh comunque ha spaccato eh roba roba davvero poi ovviamente ritornando a ciocchi normali li apre in tre secondi eh però questo ragazzi va buono allora per quanto riguarda il shopping vediamo un attimino allora il cordino dietro è fastidioso rimbalza tutte le parti rompe veramente le scatole quindi non so come non lo voglio levare mi dispiace se uno deve lavorare va allevato è il cordino dietro più cove estetica che altro ciò pare si scioppa bene e pensate io ho cioppato con tenendo il cordino tra la manicatura nessun problema in inglese sta bene in mano c'è un nodo c'è un nodo so se lo vedete lo mangiamo no no lui lavora lavora sta bene in mano mi rimetto il cordino così guardate mi scava mamma mia no no è forte mi piace andiamo così shopping è una potenza col cordino fra la manicatura quindi pensate se uno si commette guanti o leva al cordino comodissimo bravo luciano mi piace shopping e tanta tanta roba ovviamente oh bimbi si parla di 477 grammi a cena è di ciccia da buttare andate va vediamolo sul taglionetto e la potenza assurda ma facciamoci un picchettino un po' di liviamo e un po' di liviano e un po' di liviano salto e anche con la sua punta stai attenti perché potente si leva tutto lo ripuliamo eccolo qua ragazzi lavora bene lavora bene anche su lavori di fino che non è poi il suo però ragazzi grande controllo bello 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 anche su tac 3 secondi si fanno cioè non c'è proprio da dirci nulla legno fibroso lo vedete sono legnaci però lui lavora veramente bene allora non non farò la prova di punta perché va parecchio ad astremarsi sta punta quindi non voglio sarebbe stupido provare le prove che faccio io con la trazione di punta però ragazzi guardate qua c'è una penetrazione questo ortello pazzesca è veramente veramente tanta roba cioè penetra di brutto date qua davvero davvero notevole per quanto riguarda la pulizia dei rami vabbè è inutile cioè per quanto riguarda la pulizia dei rami vabbè è inutile ritornando all'inglese mi piace molto il suo controllo pur essendo un cortellone guardate ragazzi c'è una bestia qui si parla di di quasi 30 centimetri di coltello guardate qua impugnatura inglese fa ricciolini come se non ci fosse un domani ma una volta fatto tutti questi ricciolini vediamo se ci permette un accensione sembra che sembra che le fa vediamo ora ha piovuto legno un po scavata monstra bagnata di sicuro vediamo fai sti un po corto però vediamo così via cambiamo tecnica grazie a tutti grazie a tutti a 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 insomma si trova sempre una tecnica giusta per poi accendere il nostro fuoco va bene eccolo qua a me piace il casino sperimenti a provare cosa così non si riesce a vedere anche dove perché la vera tecnica lo sapete ve la ricordo sempre non guardate me che muovo il coltello ma il firesteel il coltello starebbe fermo e il firesteel che scorre perché non si butta via l'esca va bene poi se avete un po' di manualità allora potete fare anche questo se no la tecnica questa vi che piantate il coltello e tirate era meglio perché sapete le scintille vanno proprio lì e le vedete anche buono dai conclusioni finali e prova di taglio allora vediamo un po' tutto sudicio eccolo vi vediamo quanto ha perso questo questo acciaio qui via un po' ha perso però aspetta c'è l'aereo allora è passato l'aereo si intacca un po' intacca via vedete guardate però ha perso veramente guardate anche un po' bagnato ora prendo uno nuovo veramente poco ha perso ha perso veramente poco ora arriviamo una stroppata e si vede come torna allora mi sono spostato perché c'era il sole l'aereo allora li si dà un po' di stroppate perché un pochino strappava non tanto ha perso pochissimo un po' la 8 mod è un bel acciaio tanto per questo foglio nuovo perché dè per l'altro non ne poteva più poi se si tengano fuori si inumidiscono e taglia anche male taglia ha stroppato e via eccolo qui andate avete visto? tutto su diciamo stroppata e via questo non è ancora perfetto ma dai ragazzi aspettavolo dai bravo filatura se ci vuole di più bravo luciano allora considerazioni finali coltello davvero davvero a me è piaciuto tanto un po' di vibrazioni sulla roba enorme quando si porta al limite vabbè però ci sta cordino questo qui è carino ma estetico va levato io come avete visto non ho usato nemmeno il guanto ma non 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 ho sentito il bisogno di metterlo magari poi vi metto un video che ho fatto una prova col guanto dopo ve la faccio vedere ma sta bene anche senza guanti anzi si apprezza di più la manicatura alla micarta e ci sono un po' delle imperfezioni ovviamente ma lui è anche un hobbista quindi ci avrà tempo di migliorarsi e però ragazzi cortello fantastico cortello che dà soddisfazione nel bosco il coltello che si raffila in tre secondi va da paura davvero perché nel shopping e nei lavori di fino si è dimostrato efficace bello 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 e nulla io ringrazio Stefano, Luciano e buona domenica a tutti da Enrico Garzia